Ciga impianti dal 1982 al servizio delle aziende, montaggio e manutenzione di macchine, impianti e automazioni industriali in Italia e all'estero. Siamo nella sala degustazione di Petroncini Impianti, azienda che dal 1919 produce macchine per la tostatura e ovviamente prima di acquistare una macchina si deve provare il prodotto che con essa può essere realizzato. Per questo c'è una sala degustazione e in questa azienda, in Petroncini, troviamo Ciga Impianti. Realizzate macchine per il caffè? Macchine e impianti per tostare il caffè in tutto il mondo. Viene tutta fatta l'ingegneria, parte della fabbricazione viene fatta all'esterno con dei partner molto buoni. Normalmente è Ciga Impianti e il montaggio di tutto viene fatto all'interno. Noi facciamo abiti su misura e siamo molto affezionati ai nostri clienti. Abbiamo una filosofia, non sono clienti ma sono partner. Il caffè è un prodotto molto strano che noi abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri clienti perché noi conosciamo una parte, conosciamo l'ingegneria ma loro conoscono il risultato finale. Se lavoriamo insieme come abbiamo fatto in questi anni certamente il risultato è vincente. Tenga presente che noi abbiamo quasi il 70% del mercato italiano e abbiamo 4.000 macchine in giro per il mondo che tutte funzionano. Quanto sono grandi le vostre macchine? Noi abbiamo una macchinetta da un chilo. Abbiamo la più macchina grossa al mondo che è una macchina da 660 kg di batch che vuol dire 4 tonnellate all'ora. Quindi copriamo l'intera gamma da un chilo a 700 kg. Abbiamo deciso di fare un grosso investimento di qualche milione di euro in ricerca e sviluppo. Quindi ci siamo fatti una piccola macchina da 15 kg che ha tutte le tecnologie e il software come le grandi macchine. E li abbiamo messi in parallelo. Quindi il cliente viene da noi, comincia a fare dei test sulla piccola macchina. Quindi con investimenti su caffè bassi perché il caffè costa dai 3, 4, 5 euro al chilo. Possono provare i vari profili. Una volta fatto questo lo mettiamo sulla macchina grossa e ottiene esattamente lo stesso risultato. Quindi vanno via entusiati. Arrivano col caffè verde e vanno via con la bevanda. Più di così credo che non si possa fare. Come si inserisce la collaborazione di Ciga e Impianti nella vostra azienda, in Petroncini? È nata per caso. Pur essendo così vicini, per tanti anni non li abbiamo utilizzati. Li abbiamo scoperti e siamo molto contenti di usarli. Ci danno della mano d'opera di aiuto. Perché il nostro mestiere è un mestiere molto flessibile. Soprattutto negli impianti salgono e scendono in maniera difficile da gestire. E loro ci aiutano in queste fasi. Vi garantiscono la flessibilità necessaria per rispondere agli ordini? Esattamente. Questo è il nostro lavoro. Lo facciamo da sempre. L'obiettivo è il miglioramento continuo. Soprattutto quando crediamo di essere al top. È importante che siano gli altri, i nostri clienti, a dire che siamo un'azienda affidabile. Domani è un altro giorno. E noi siamo pronti. La mia vita è un'azienda affidabile. È difficile. Ma è un'azienda affidabile. La mia vita è un'azienda affidabile. La mia vita è un'azienda affidabile. Grazie a tutti.